Che roba! Eccoci qua, buongiorno a tutti siamo qua con Renato Palodetti di Calore Mountain Bike. Siamo in partenza per Pian De Boi, anche oggi non siamo fortunati come tempo ma noi facciamo l'escursione lo stesso, verso Col Vidal vediamo di andare per i rifugi di Pian De Boi per dopo rientrare. Buon divertimento a tutti! Ancora un po' e siamo su Alexio di Fugio Marmarole e ai Pian De Boi l'ultima parte di salita su fondo cimentato verso Pian De Boi, verso sinistra la lunga catena dei rispalti di toro magnifici, a partire da sinistra Montanel verso destra Cimaxpe e qua entriamo verso Pian De Boi, il rifugio in fondo è il Bayon sopra l'antelao sempre chiuso e qua andiamo verso il Fugio Caredo e le Marmarole orientali. Questo è il vecchio edificio di Fugio Marmarole, un tempo casermetta degli Alpini. e noi proseguiamo verso Col Vidal scorci magnifici e noi proseguiamo versoinary Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo giù. Tutta roba nuova per noi. Che roba. Un po' di fuoristrada. Ci vuole. Uh bello. Oh bello. Bellissimo. Stupendo. Ecco Rosa dei Mulini. Bellissimo. Anche qui dal sito di Cadori Mountain Bike di Renato è in descrizione. Questo è da fermarsi per visitare. E qua scarica. La via romana che prosegue verso Cimagonia, Auronzo. Però è interrotta dalla frana. Vediamo com'è. Qua non è male. E qua finisce. Qua basta.